Verdure, amici, ristorante, canale Anna Italia. Forse metà portrò via perché il secondo agnello tenerissimo, tenerissimo. E questo coniglio, contorno, abbiamo già mangiato primo, peccato che non ho presa perché lui ho preso strozzapretti, nostra pasta toscana con funghi porcini e lui ho preso tortelli con cindiale perché siamo in zona di cindiale, allora cindiale. Il mio canale è nuovo, Anna Toscana, con pochi iscritti, ma iscriveteci, vi faccio vedere indirizzo. Siamo in Toscana, Castel del Piano, assolutamente, guardate i prezzi qua, però pagate meno, meno, meno. Al massimo se prendete due, guardate il contorno, se prendete antipasto, per due persone io parlo, antipasto, due primi, due secondi, dolce, dolce, vino, mezzo litro di vino, guardate i prezzi qua. Pagate al massimo 42 euro perché i nostri amici ieri erano andati, ho preso tutto, tutto, hanno pagato 42 euro. Il canale mio, Anna Italia, io sono ucraina, se volete sapere se è qualcosa che non va nel mio dialecto. Guardate, guardate, 3 euro, dove trovate voi prostata, dove, in ristorante 3 euro? Gelato 3 euro, catalana, al venerio, questo proprietario, qua catalana per voi. C'è vino e assaggiamo vino, amici, cin cin, cin cin per voi e speriamo che guerra finisce perché c'è guerra ora in Ucraina, mamma mia. C'è guerra, amici, speriamo che finisce presto perché è impossibile capire che tanta gente more. Contorno molto buono, buonissimo, patate, zucchini, melanzane, peperone. Io preferisco questo, questi due pezzi porto via perché qui oggi non è vergogna portare via, danno scatola e apposta, si porta via, ma dolce voglio assaggiare ancora, vi faccio vedere il panorama. Vedete come è bello questa sala, sala dove c'è più di 700 persone entrano e sopra c'è albergo, due piani di albergo, qui sempre molto famoso, amici, perché un proprietario è già morto, insomma c'è figlio che guida tutto, proprietario, ho fatto questo albergo e questo è un ristorante apposta per gente, quella lavorativa che non ce l'ha solo, per semplice gente che deve andare a venire a mangiare bene e spendere poco. Fatto apposta, abbassato questi prezzi e questa generazione, questa tradizione continua. una cosa pazzesca, io qui è stata tre giorni fa, però l'ultima volta, dieci anni fa sono stata, mi ho quasi dimenticato di questo posto, ma qui a Biata abbiamo scappato da freddo, da caldo scusate, perché a casa io ce l'ho 30, fuori ce l'ho 38, lo mangio e racconto voi, fuori 38 amici, è più caldo che esiste, patata no, patata lascio per me o uomo, mi piacciono questi qua, questi si può anche fare in casa, voglio fare, da tanto che non faccio, ma cucino poco perché preferisco non scaldare a casa, anche se ce l'ho induzione, induzione non scalda a casa, un pochino acqua si può bere, umore, un po' di acqua, acqua va bene, un po' di acqua perché il vino si scalda, tanto con vino, olio, bruschetta, abbiamo mangiato prima, bruschetta e il pomodoro, acqua frizzante, bella, volete qualsiasi vino rosso, comunque abbiamo scappato e ora si sta in montagna, tre giorni e dopo questo ristorante andiamo in alto, 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 la dormiamo, mangiamo e stiamo tre giorni, dormiamo in macchina amici per risparmiare perché in macchina c'è tutta comodità, macchina molto grande, sedie si mettono davanti e indietro c'è come matrasso normale, due metri lungo per un metro sessanta largo, un vero matrasso dove si può dormire, ma è importante avere cuscini da casa, suoi cuscini, magari quelli vecchi, no, quelli nuovi, belli, noi abbiamo tanti cuscini, è coperta quella invernale perché di notte, di notte amici 12 gradi, anche 8, c'è silenzio, mi voglio sdraiarmi proprio nel bosco, camminare, camminare, sdraiarmi e vivere nel questo silenzio, lontano da, in pace, in pace amici, questi due porto via, non voglio toccare, questo morbido, bello morbido, voglio mangiare ora io, c'è un po' di osso, un tortello, vedete, però io, ecco qua, oh, che morbidezza, questo sì, questo sì, nemmeno io non sono capace per Pasqua cucinare un agnello così, guardate, tenerissimo e profumato, non so come fanno cucinare, tutte le notte, questo agnello, le fanno cucinare, caldo, no, patata, ok, assaggio patata, amici, se siete arrivati finora, vi do già più di 7 minuti, vi ringrazio tanto, iscriveteci al mio canale, mi farete veramente piacere, perché io voglio crescere, io voglio fare vedere, fare vedere è quello che faccio io tutti i giorni, dove si mangia bene, io sono una criticona che anche critica, critica e però anche dice belle cose e vi invito tutti a venire qua, che siete lontani, da vicino, venite tutti qua, perché anche il menù completo, due persone, 42 euro, potete mangiare tutto, tutto che volete. Ce l'ho altro canale, se qualcuno mi sente, il mio principale canale si chiama Anna Toscana, se qualcuno vuole vedermi anche nel altro canale, iscriveteci, così mi vedete diviso, Anna Toscana è il mio canale principale, dove io ce l'ho più di 1600 iscritti, amici, perché mi piace tanto fare video e faccio abbondanze, diciamo, ce l'ho tanto da fare, da vedere, da cucinare, casa mia, tutto insieme. Che buono bucconcino mi è capitato. Qui ancora c'è pochissimo osso. Ora vi saluto con questo brindisi, vino fresco. E arrivederci! Grazie! Grazie!